Se vogliamo lasciare il segno, dobbiamo essere pronti a tutto. Anche a lavorare con l'SOE, le forze speciali inglesi. C'è qualcosa in ballo? Per forza. Devi seguire. La Resistenza ci ha appena informato di un treno tedesco che trasporta dei razzi V2 per un attacco a Parigi. È in sosta vicino ad Argentano. Questo ci dà abbastanza tempo per portare la squadra in posizione. Dobbiamo fermarlo lì. Avete dimostrato il vostro valore a Marigny, quindi avrete voi questo privilegio. Grazie, signore, ma questo non sembra un lavoro per un solo plotone. Infatti farete squadra con l'SOE. Però vi siete dati da fare. Tranquillo, tenente. Ce n'è per tutti. Agenti Vivian e Crowley condurranno l'operazione. Lavorano con la Resistenza da mesi, conoscono il terreno. Obedirete a loro. Abbiamo saputo di Marigny. Notevole. Non è solo merito mio. Normale amministrazione. Un gran lavoro, ma il difficile viene ora. Non è un comune treno rifornimenti tedesco. È una fortezza su rotaie. Il nostro contatto nella Resistenza, Rousseau, proverà a supportarci, ma gli attacchi alla nostra rete potrebbero lasciarci isolati. Il destino di Parigi è nelle vostre mani. Mi ricorda il nostro lancio sopra Vercors. L'agguato contro la Gestapo. Come sei romantica. Ecco il bersaglio. I crucchi sono tipi precisi. Il treno è puntuale. È un treno così grande. È così corazzato. È un Panzerzug. Quei V2 hanno un raggio di 300 chilometri. Possono arrivare a Parigi. Non devono arrivare al sito di lancio. Ovviamente i nemici davanti. Bene. Io e Vivian li facciamo fuori. Turner a quel punto avanza. Daniels, dopo la tua impresa a Marigny fornirai fuoco di supporto insieme a Ziosman. Forza. Bene, andiamo. State tutti giù. Silenziatori. Ammazza il cicchino. Daniels, usa il coltello. Ben fatto, Daniels. Adesso l'ufficiale. Al tuo segnale. Spara all'ufficiale. Eccezionale. Turner, prendi qualcuno e aggirate la casa. Daniels, resta con Crowley. Muoviamoci. Occhio. Ben fatto. Andiamo. Il cicchino è tutto, Daniels. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Non uscire di strada! Attento agli altri! Preciti! Lo vedi? Eccolo, accelera! Così lo perdiamo! Sinistra! Ci provo! Ci scorge! Curva a destra! Lo stiamo perdendo! Più veloce! Più veloce! Più veloce! Lo devo guidare io! Ti accontento subito! Prendi il volante! Spara! Spara! Abbiamo finito! Tieni la ferma! Lancia le granate! Carro! Andiamo alla testa del treno! Fuoco! 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 In alto! Centro il lacone! Ci arrivano altri! Qui ci massacrano! Portaci via da qui! Avviciniamoci! Non potranno colpirci! Granata! Ci penso io! Cazzo! La camionetta è a pezzi! Salta! Merda! Pulano! La camionetta! Uscuf! Dennis, dove cazzo sei? Arrivo, aspetta! Porca puttana! È successo davvero? Ce l'abbiamo fatta! Finirà nei libri di storia. Stiles avrà fatto qualche foto. Pearson potrebbe anche lasciarci in pace. Occhio! Seguitemi. Vi porto dal Plutone. Scusa, e tu? Che cazzo sei? Un'amica. Svelti. Qui vagoni! Ho un kit medico tutto per te! Davanti a noi! Ho un kit medico! Prendi! Si vuole l'altra, cazzo! Allora! No! No, a terra! Il mortetto! Gli ha percorato il cranio! Daniels, ho un kit medico per te! Prendi! No, no, no. Tira una granata! Tira una granata! Sono davanti a noi Il nostro portone è di qua Credo che siano dei vostri Ah, avete conosciuto Rousseau Ed è il Maquis, la resistenza francese Ha ucciso un crucco che ci puntava Ogni tanto sarebbe utile interrogarle qualcuno Sarebbe solo una perdita di tempo Vi davamo per persi Avete fatto un po' di danni Quel treno andava certo fermato Non distrutto Sì, mi dispiace che le cose ci siano sfuggite di mano Ma il lato positivo è che abbiamo allertato Tutti gli avamposti nemici dell'area Faremo meglio a darci una mossa Prima bisogna finire la missione Dico bene, Maggiore? Aiutateci a recuperare Non so bene come Ma io e Zeus siamo sopravvissuti allo schianto del treno E abbiamo incontrato una francese Una tosta di nome Rousseau Fa parte della resistenza Ed è riuscita a convincerci a frugare fra i rottami del treno In cerca di documenti Le servivano per una missione a Parigi E aveva un lavoro anche per noi Distruggendo il treno Abbiamo scongiurato un attacco contro Parigi Ora la resistenza userà i documenti recuperati Per infiltrarsi in una guarnigione nazista in città E io l'aiuterò Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti